Come diceva l'onorevole Sottanelli abbiamo visitato la sezione femminile e come giustamente puntualizzava l'onorevole Sottanelli era stata pensata una sezione a trattamento avanzato femminile custodiale, chiaramente a cura proprio delle donne, per la cura della genitorialità è stato uno schiaffo in faccia, è un colpo al cuore perché un grido forte che veniva soprattutto dalla madre di questi due bambini è stato il seguente, portatemi via i miei bambini, ora al di là di quello che l'annulativa settoriale chiaramente impone, come giustamente veniva detto fino a tre anni la cura della mamma è quasi doverosa, ma non in condizioni di cattività e quindi noi confidiamo tramite il nostro onorevole Sottanelli di poter accendere una luce su questo aspetto che è inquietante, è stata una mattina dal quanto inquietante, anche io voglio lodare l'operato di tutto il personale carcelario, gli agenti, il direttore, il personale tutto perché sono attenti sia all'aspetto umano presente all'interno del carcere, hanno con loro installato anche un dialogo per cercare anche di spiegare, affrontare quello che è accaduto orribile ieri, va alla vicinanza da parte nostra chiaramente alla famiglia del ragazzo, è una situazione insostenibile sia per chi lavora sia per chi vive lì dentro.